oggi è il 18 luglio 2007 sono venuto qui a spotorno in questo golfo meraviglioso portato dal mio federamico bestio e questo è lo spettacolo che si presenta ai miei occhi come potete vedere pure voi il panorama è stupendo questo è tutto il golfo di spotorno con torre del mare l'isola di bergeggi e queste torre del mare questa che vedete qua sopra bene alla prossima ciao